Fratelli d'Italia resta in testa e il PD deve fare i conti con un brusco calo. Il sondaggione SWG di Enrico Mentana per Tg la 7 fotografa così la situazione della politica italiana e delle intenzioni di voto se si votasse oggi. La rilevazione di fatto è un ulteriore schiaffo ai gufi che sognavano ad esempio un declassamento dell'Italia da parte di Mudais. Nulla di tutto ciò è accaduto e la fiducia degli elettori nel partito di Giorgia Meloni resta intatta. Infatti Fratelli d'Italia è al 29% con una lieve flessione dello 0,1% negli ultimi sette giorni. Il PD invece ha perso lo 0,3% in una settimana e adesso è al 19,4%. Nuovamente lontano dalla soglia minima, anche in vista delle europee, del 20%. Ma non finisce qui. I DEM devono guardarsi le spalle dal Movimento 5 Stelle che guadagna lo 0,4% e sale al 16,6%. Insomma quanto pare soffiare sul fuoco dello sciopero di Landini non ha portato consensi a sinistra. E nel centro-destra la Lega sale al 9,6% con un più 0,2 in sette giorni. Bene anche Forza Italia che cresce e raggiunge il 6,9%. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2 e scende al 3,7%. In calo anche Verdi e Sinistra che si fermano al 3,5%. Cresce Italia viva di Matteo Renzi che va al 3,1%. In Asceca anche più Europa che ora è al 2,8%. Insomma il centro-destra continua a mantenere una distanza siderale dal centro-sinistra. E a quanto pare le battaglie della Sclena poco servono per racimolare qualche decimale nei sondaggi.